I dati sulla contrattazione sociale e territoriale nelle Marche mostrano innanzitutto che si parla di processi molto diffusi sul territorio. Abbiamo visto in particolare che circa il 60% dei comuni marchigiani e quindi il 65% circa della popolazione residente nel territorio beneficia degli effetti positivi della contrattazione sociale e territoriale. Vediamo che la contrattazione sociale ha come target privilegiati della propria azione i soggetti deboli e quelli sui quali l'Unione Europea invita ad investire. Parliamo delle donne, parliamo degli adulti in difficoltà e dei minori. Altro punto di forza è che la contrattazione investe sui servizi, sul miglioramento dei servizi già esistenti o sull'introduzione di servizi innovativi. Ed è di nuovo la risposta che l'Unione Europea ci invita a realizzare per dare a soggetti deboli e meno deboli la possibilità di progettare in libertà il proprio futuro. Ultimo elemento distintivo della realtà marchigiana, della contrattazione nella realtà marchigiana, è un'attenzione privilegiata per alcune aree di politica che oggi sono poco coperte dal welfare state nazionale. In particolare l'attenzione per il tema della povertà, per il tema della famiglia minori, il tema dell'abitazione, per quanto riguarda le politiche socio-familiari e un'attenzione per la riqualificazione del territorio, quindi un investimento in infrastrutture, in qualità dell'ambiente e in qualità della vita. Il rischio oggi, a seguito dei processi di riforma, in particolare di decentramento amministrativo, è che si produca una cittadinanza sociale molto differenziata, molto diseguale sul territorio, perché molto dipende nella capacità di offrire protezione alla popolazione, molto dipende certamente dalla lungimiranza, dalle idee, dalla capacità amministrative dei governi locali e dall'altro lato dalla responsabilità e competenze che gli attori del privato, del privato sociale e anche le rappresentanze sindacali esercitano sui tavoli negoziali. Il punto è dunque capire quale possa essere il ruolo del sindacato che è chiamato a riprogettare il welfare futuro, un welfare che cerchi di superare le forti disuguaglianze che ci sono oggi tra i generi e le generazioni, un welfare che sappia rispondere a tutte le nuove funzioni di rischio sociale. È un welfare che richiede non tanto e non solo degli investimenti di natura economica, ma soprattutto richiede l'avvio di tavoli negoziali che siano effettivamente partecipati e nei quali gli attori, e tra questi il sindacato in primis, siano in grado di sedere, portando risorse, portando soprattutto delle competenze dal punto di vista interpretativo, quindi la lettura di quello che accade e progettuale, cioè disegnare l'idea di società che abbiamo in mente per il nostro futuro.